Buonasera, oggi il giorno 17 settembre 2017, domenica Aldo Leremita si trova al Lago Maggiore. Ecco di fronte il traghetto che sta arrivando in questa città che è dove io mi trovo tuttora, l'Aveno, Lago Maggiore. In basso vedete la stazione Nord, e la stazione che parte da Milano-Cadorna, che è l'ultima fermata del treno, arriva proprio in questo paese. Sottostante vedete tutta la città o paese, diciamo, meglio dire, di fronte al tramonto del Lago Maggiore, e proprio ancora di fronte si vede da lontano l'Isola Madre, e dalla parte invece sinistra si vede la parte piemontese, perché io tuttora mi trovo nella parte lombarda del Lago Maggiore. Vedete di fronte il tramonto? È meraviglioso. E poi vi devo dire che in città metropolitana preferisco la parte moderna, nelle metropolitane, ma nei paesi preferisco la parte d'epoca, quella di una volta. Infatti ho aumentato la velocità e sto andando a farvi vedere le case d'epoca di una volta, che sono una meraviglia in questo paese. Abitare queste case, ecco, adesso le sto facendo vedere, ecco, comincio a far vedere una specie di castello. Ecco, la casa d'epoca di Laveno, la via più, diciamo, più vecchia. Qui è bello abitare, guardate che bella la finestra, sembra il bosco verticale che c'è a Milano, a Milano, alla stazione di Porta Garibaldi. Qui è una casa d'epoca di Laveno, Lago Maggiore, provincia di Varese. Vi saluto da questo YouTube, Aldo.